Di Thomas Mann, i Buddenbrock, voce di Lorenzo Pieri, parte ottava, capitolo quarto. Rimasto solo, il senatore si era rimesso a sedere e aveva tirato fuori il pince-nez con l'intenzione di riprendere la lettura. Ma dopo un paio di minuti appena, i suoi occhi si erano staccati dal giornale e senza cambiare posizione egli aveva seguitato a fissare lungamente fra le portiere semiaperte il buio del salotto, come si trasformava il suo viso quando era solo fino a diventare irriconoscibile. I muscoli della bocca e delle guance, di solito disciplinati e costretti all'obbedienza e al servizio di un incessante sforzo di volontà, si rilassavano, si afflosciavano, come una maschera conservata ormai ad arte, l'espressione vigile, accorata, energica e cortese di quel volto cadeva, lasciando il posto ad una tormentosa stanchezza. Gli occhi, rivolti con sguardo torpido e spento su un oggetto che non vedevano, s'arrossavano, incominciavano a lacrimare e senza ardire il tentativo di ingannare ancora a se stesso, egli, fra tutti i pensieri affannosi e irrequieti che gli confondevano la testa, riusciva a trattenerne uno solo, il pensiero disperato che Thomas Budenbroke, a 42 anni, era un uomo sfinito. Lentamente, con un profondo respiro, si passò la mano sulla fronte e sugli occhi, accese macchinalmente un'altra sigaretta, pur sapendo che gli faceva male, e seguitò a guardare nel buio attraverso il fumo. Quale contrasto fra la dolorosa rilassatezza dei suoi lineamenti e le cure dedicate a quella testa per renderla elegante e quasi marziale, i baffi profumati e appuntiti, le guance e il mento levigati e perfettamente rasi, i capelli disposti in modo da nascondere per quant'era possibile l'incipiente calvizie, scoprenti le tempie delicate in due lunghi semicerchi, con una scriminatura sottile e sulle orecchie non più lunghi e ricci come una volta, ma tagliati corti invece perché non si vedesse che in quel punto diventavano grigi. Lo sentiva anche lui quel contrasto e sapeva che a nessuno in tutta la città poteva sfuggire la contraddizione fra la sua versatile attività e lo smorto pallore del suo viso. Non si poteva dire che in città egli fosse considerato un personaggio meno importante e insostituibile di una volta. Gli amici ripetevano, e gli invidiosi non potevano negarlo, che il borgomastro Langals aveva ripetuto a voce molto più alta la dichiarazione del suo predecessore Överdick. Il senatore Budenbrock era il braccio destro del borgomastro. Ma tuttavia che la ditta Johann Budenbrock non fosse più quella d'un tempo era una verità che correva le strade. Il signor Stuth della Glockenghisstrasse poteva ben ripeterla a sua moglie mentre mangiavano insieme la minestra all'ardo, e Thomas Budenbrock ne gemeva fra sé. Quella convinzione però si era diffusa soprattutto per colpa sua. Era ricco, e nessuna delle perdite subite, neanche quella assai grave del 66, aveva potuto minacciare seriamente l'esistenza della ditta. Ma sebbene egli continuasse, come era naturale, a dar pranzi e ricevimenti adeguati alla sua posizione, e a far servire agli invitati il numero di portate che essi si aspettavano, si era tuttavia convinto che il successo e la fortuna l'avevano abbandonato. E quest'idea, che era più una verità interiore che una realtà fondata sui fatti esterni, lo aveva messo in un tale stato di sospetto e di scoramento, che aveva incominciato a lesinare il denaro come non mai, e a fare nella sua vita privata economie quasi meschine. Cento volte aveva maledetto la costosa costruzione della casa nuova, che, ne era convinto, gli aveva portato nient'altro che sventura. Furono aboliti i viaggi estivi, e il giardino in città dovette sostituire le villeggiature al mare o in montagna. I pasti che faceva con la moglie e col piccolo anno diventarono per suo ordine severo e ripetuto, di una frugalità quasi ridicola, in confronto alla gran sala da pranzo, dal ricco pavimento di legno, dal soffitto altissimo e lussuoso, dallo splendido mobiglio di rovere. Per molto tempo il dolce fu permesso soltanto la domenica. L'eleganza del suo vestire rimase immutata, ma Anton, il domestico, raccontava in cucina che il senatore si cambiava la camicia bianca soltanto ogni due giorni, perché il bucato rovinava troppo la sottile tela di lino. E altre cose ancora poteva raccontare Anton, ad esempio, che stava per essere licenziato. Gerda non voleva saperne. Diceva che tre persone di servizio erano appena sufficienti per la manutenzione di una casa così grande, ma non servì a nulla. Con un adeguato dono in denaro, Anton, che per tanto tempo era stato a cassetta quando Thomas Budenbock andava al Senato in carrozza, fu mandato via. A queste misure corrispondeva il ritmo sconsolante che avevano preso gli affari. Non c'era più traccia di quello spirito nuovo e fresco con cui il giovane Thomas Budenbock aveva vivificato l'azienda. E il suo socio, il signor Friedrich Willen-Marcus, che partecipando con un modesto capitale non aveva mai contato molto, era per natura e per temperamento incapace di qualsiasi iniziativa. Con gli anni, la pedanteria di costui era aumentata e ormai era addirittura stravaganza. Gli ci voleva un quarto d'ora per spuntarsi un sigaro, lisciarsi i baffi, schiarirsi la voce e guardarsi in giro guardingo prima di riporre la punta del sigaro nel borsellino. La sera, quando le lampade a gas illuminavano a giorno ogni angolo dell'ufficio, egli non rinunziava mai ad accendere sulla sua scrivania una candela stearica. Ogni mezz'ora si alzava e andava a mettere la testa sotto il rubinetto. Una mattina, per sbaglio, un sacco vuoto era andato a finire sotto la sua scrivania ed egli lo prese per un gatto e cercò di cacciarlo via imprecando ad alta voce, con gran giubilo di tutto il personale. No, non era un uomo da affrontare l'attuale infiacchimento del socio intervenendo energicamente negli affari. E sovente il senatore, come ora mentre fissava l'occhio stanco verso l'oscurità del salone, si sentiva cogliere dalla vergogna e da una disperata impazienza al pensiero del piccolo commercio meschino, degli affarucci da un soldo a cui si era avvilita negli ultimi tempi la ditta Johann Budenbrock. Ma non era un bene che fosse così. Anche la sventura, egli pensava, deve fare il suo tempo. Non è forse saggio starsene tranquilli finché essa regna su di noi, non muoversi, aspettare e intanto chiamare a raccolta con calma le forze interiori. perché erano venuti a lui proprio adesso con quella proposta che lo distoglieva anzitempo dalla sua savia rassegnazione e lo riempiva di dubbi e di scrupoli. Era giunto il momento, era un cenno del destino, doveva farsi animo, tirare su e menare il colpo. con tutta la risolutezza che aveva potuto mettere nella sua voce, egli aveva respinto la proposta. Ma dopo che Tony era uscita, era proprio tutto finito. Pareva di no, poiché egli stava ancora lì a rimuginare. Una proposta ci manda in collera quando non siamo ben sicuri di saperla respingere. Furba come il diavolo, quella piccola Tony. E lui che obiezioni aveva fatto? Ricordava di aver parlato bene, con molta fermezza, maneggi poco puliti, pescare nel torbido, sfruttamento brutale, scannare un inerme, profitto da usuraio. Magnifico! Ma ci si poteva chiedere se era il caso di tirar fuori parole così grosse. Il console Herman Hagenstrom non le avrebbe cercate e non le avrebbe trovate. Thomas Budenbock era un uomo d'affari intraprendente e spregiudicato o un moralista pieno di scrupoli. Sì, era questo il problema. Da quando aveva incominciato a pensare, era sempre stato il suo problema. La vita era dura e il mondo degli affari, alieno da riguardi e da sentimentalismi, era la copia del mondo grande. E Thomas Budenbock poteva dirsi solidamente piantato con tutti i due i piedi come i suoi padri in quella vita dura e pratica. Troppe volte e già da tempo aveva avuto motivo di dubitarne. Troppe volte e fin dall'adolescenza aveva dovuto correggere i suoi sentimenti di fronte a quella vita. Usare durezza, incontrare durezza e non sentirla come durezza, ma come una cosa ovvia e naturale. Ma l'avrebbe mai realmente imparato. Ricordò l'impressione che gli aveva fatto la catastrofe del 66 e si richiamò alla mente le dolorosissime sensazioni provate allora. Aveva perduto una grossa somma di denaro. Oh, non era stata quella la cosa più intollerabile, ma aveva dovuto sperimentare per la prima volta pienamente e sulla propria persona la crudele brutalità del mondo degli affari, dove tutti i sentimenti buoni, dolci e gentili spariscono davanti al rozzo, nudo e imperioso istinto di conservazione e dove una disgrazia patita non suscita negli amici, negli amici migliori la commiserazione, bensì la diffidenza, la fredda e ostile diffidenza. Non lo sapeva già? Come mai se ne meravigliava? Più tardi, nelle ore migliori e di maggiore energia, che vergogna aveva avuto d'essersi abbandonato allo sdegno in quelle notti insonni, di essersi rivoltato pieno di schifo e inguaribilmente offeso contro la brutta e spudorata durezza della vita? Com'era stato sciocco, com'erano stati ridicoli quegli impulsi ogni volta che li aveva provati, in che modo aveva mai potuto sorgere in lui? Che cos'era dunque, egli tornava a chiedersi, un uomo pratico o un languido sognatore? Ah, questa domanda se l'era posta mille volte e nei momenti di forza e di sicurezza aveva risposto in un modo nei momenti di stanchezza in un altro. Ma era troppo onesto e sagace per non confessare infine a se stesso la verità e cioè che egli era un miscuglio d'entrambi. Per tutta la vita si era mostrato alla gente come un uomo attivo ma nel meritarsi tale considerazione non aveva agito per riflessione cosciente secondo l'aforisma e il giudizio ghettiano che amava citare. In altri tempi aveva riportato successi ma non erano stati determinati semplicemente dall'entusiasmo, dallo slancio suscitato in lui dalla riflessione. E ora che era accasciato, che le sue forze anche se non per sempre sembravano esaurite, non era questo la conseguenza necessaria di una situazione insostenibile, di quel contrasto innaturale e logorante che aveva dentro. Chissà se suo padre, suo nonno, il suo bisnonno avrebbero comprato in erba il raccolto di pepe rade ma che importava, che importava, che però fossero gente pratica, che lo fossero in modo più completo, più sano, più forte, più franco, più spontaneo di lui, questo era il fatto incontestabile. Fu preso da una grande inquietudine, un bisogno di moto, di spazio e di luce. Spinse indietro la seggiola, andò nel salotto e accese parecchie fiammelle a gas del lampadario centrale. Rimase lì in piedi, torcendosi nervosamente le punte dei baffi e si guardò intorno senza nulla vedere nel salotto pomposo. Con la stanza di soggiorno esso occupava tutta la larghezza della facciata, era arredato di mobili chiari centinati e il gran pianoforte a coda sul quale era posato l'astuccio del violino di Gerda, lo scaffale carico di libri di musica, il leggio scolpito e i bassorilievi di amorini musicanti sopra le porte gli davano l'aspetto di una sala da musica. Il vano della grande finestra era pieno di palme. Il senatore Budenbrock restò immobile per due o tre minuti, poi si scosse, ritornò nella stanza di soggiorno, entrò nella sala da pranzo e illuminò anche quella. Andò alla credenza, si versò da bere per calmarsi o forse per far qualcosa, poi con le mani dietro la schiena proseguì il suo giro per la casa. Il fumoir aveva i mobili scuri ed era rivestito di legno. Col gesto di un automa egli aprì lo stipetto dei sigari e lo richiuse subito. Si avvicinò al tavolo da gioco, alzò il coperchio di una cassetta di rovere che conteneva mazzi di carte, blocchetti per il punteggio e simili. Si fece scorrere fra le dita un pugno di gettoni d'osso, riabbassò il coperchio con un colpo secco e andò oltre. A Tigua al fumoir era una cameretta con la finestra a vetri colorati. Non aveva mobili tranne alcuni tavolini rientranti l'uno dentro l'altro. Sul più grande c'era un cave liqueur. di lì si passava nel salone che con l'immensa superficie palchettata e le quattro finestre altissime dalle tende rosso-oscure prospicenti il giardino occupava anch'esso tutta la larghezza della casa. Era arredato con due divani bassi e pesanti rossi come le portiere e un gran numero di solenni seggiole dall'alto schienale allineate contro il muro. C'era poi un caminetto e dietro alla grata un mucchio di tizzoni finti che sembravano accesi perché erano rivestiti di un tessuto fosforescente rosso-dorato. Sulla lastra di marmo davanti allo specchio torreggiavano due enormi vasi cinesi. Adesso tutta la fuga a distanze era illuminata da poche fiammelle a gas come dopo una festa quando è già andato via l'ultimo invitato. Il senatore percorse il salone in tutta la sua lunghezza poi si fermò davanti ad una delle finestre che era di fronte alla cameretta vuota e guardò fuori in giardino. La luna era alta e lontana fra nubi fioccose e lo zampillo della fontana chioccolava nel silenzio sotto i rami penduli del noce. Thomas guardò verso il padiglione che chiudeva il giardino la piccola terrazza bianca e luminosa coi due obelischi i viottoli regolari coperti di ghiaia le aiuole rotonde vangate di recente le distese erbose ma tutta quella graziosa placida simmetria invece di rasserenarlo lo irritò e lo offese serrò il pugno intorno alla maniglia della finestra vi premette la fronte e lasciò che i suoi pensieri riprendessero il loro corso angoscioso che cosa ne sarebbe di lui ricordò un'osservazione fatta poco prima a sua sorella e di cui aveva subito sentito la futilità parlando del conte Strelitz e della nobiltà terriera aveva espresso nettamente l'opinione che bisognava riconoscere al produttore una superiorità sociale sul mediatore ma era poi giusto oddio in fondo non importava niente che fosse giusto o no ma toccava proprio a lui esprimere quell'idea svilupparla e anche soltanto concepirla poteva immaginare il babbo il nonno il bisnonno uno qualunque dei suoi concittadini intento a seguire quel pensiero e a dargli espressione un uomo che non ha dubbi saldo nella sua professione conosce e apprezza solo questa si occupa solo di questa improvvisamente sentì che il sangue gli saliva al capo e che il suo volto avvampava per un ricordo più lontano si vide col fratello christian nel giardino della mengstrasse infervorato in una discussione in una di quelle loro liti tempestose e deplorevoli christian nel solito modo indiscreto e compromettente aveva buttato la davanti a molta gente una frase sventata della quale lui sdegnato furente irritatissimo gli aveva chiesto ragione in fondo aveva detto christian ogni commerciante è un imbroglione ebbene quella frase spregevole e insulsa era poi tanto diversa nella sua essenza da quella che egli stesso si era premesso di pronunciare poc'anzi davanti alla sorella e gli se n'era indignato aveva protestato irosamente con christian ma che cosa aveva ribattuto tony la furba e sottile tony chi va in collera no disse improvvisamente il senatore ad alta voce alzò la testa di scatto lasciò andare il pomo della finestra si strappò quasi di lì e si disse adesso basta poi si raschiò la gola per superare l'impressione sgradevole che gli aveva fatto la sua voce solitaria si volse e a testa china con le mani dietro la schiena si mise a passeggiare per tutte le stanze adesso basta ripete bisogna finirla io mi perdo nell'ozio io vado a picco sto diventando più sciocco di christian poteva ringraziare il cielo di vedere chiara la sua situazione era in sua facoltà correggersi compiere un atto di forza vediamo vediamo com'era la proposta che gli avevano fatto comprare in erba il raccolto di pepeade lo farò disse piano con ardore e agitò persino una mano con l'indice teso lo farò non era appunto ciò che si chiama un buon colpo l'occasione di raddoppiare un capitale di diciamo esagerando un poco 40.000 marchi sì era un cenno del destino un invito a risollevarsi si trattava di un inizio di un primo colpo e il rischio che vi era collegato forniva una nuova confutazione di tutti gli scrupoli morali se riusciva egli si sarebbe rimesso in piedi avrebbe osato di nuovo avrebbe saldamente afferrato la fortuna e il potere con quelle misteriose morse interiori no ai signori Strunk e Hagenstrom non sarebbe toccata la preda c'era un'altra ditta che in questo caso grazie ai rapporti personali avrebbe avuto la precedenza davvero stavolta il fatto decisivo era la relazione d'amicizia non si trattava del solito affare che si conclude freddamente nelle forme consuete aveva invece il carattere così come era stato impostato da Tony di una faccenda privata da sbrigarsi con discrezione e compiacenza e no Herman Hagenstrom non sarebbe stato l'uomo adatto Thomas come commerciante approfittava dell'occasione e per Dio avrebbe saputo coglierla anche dopo per la vendita d'altra parte però rendeva un servizio al possidente lui solo poteva trarlo d'impiccio grazie all'amicizia fra Tony e la signora von Mayboom bisognava scrivere dunque quella sera stessa non sulla carta intestata col nome della ditta ma sulla sua carta da lettere che portava stampato soltanto senatore Budenbock scrivere nel modo più discreto chiedendo se sarebbe stata gradita una sua visita nei prossimi giorni faccenda delicata però terreno sdrucciolevole sul quale occorreva muoversi con una certa grazia ma appunto perciò era pane per i suoi denti e i suoi passi si fecero più svelti il suo respiro più profondo si sedette un momento balzò in piedi e riprese la sua passeggiata riesaminò tutta la questione pensò al signor Marcus a Herman Hagenstrom a Christian a Tony vide le gialle messi di Peppenrade fremere al vento fantasticò sulla ripresa generale che la ditta avrebbe avuto dopo quel colpo scacciò rabbiosamente ogni dubbio agitò la mano e ripetè lo farò la signora Permaneder mise dentro il capo dalla sala da pranzo e gli gridò buonanotte e gli rispose senza rendersene conto entrò Gerda che Christian aveva accompagnata fino alla porta di casa e nei suoi occhi bruni stranamente ravvicinati c'era l'enigmatico splendore che la musica sempre vi lasciava il senatore si fermò macchinalmente davanti a lei le chiese macchinalmente del concerto e del violinista spagnolo e disse che anche lui si sarebbe coricato subito ma invece di andare a letto riprese a camminare su e giù pensava ai sacchi di grano di segale d'orzo e d'avena che avrebbero riempito i magazzini leone balena tiglio e quercia poi meditò sul prezzo o un prezzo niente affatto indecente che aveva l'intenzione d'offrire a mezzanotte scese piano piano in ufficio e al lume della candela di marcus scrisse tutto d'un fiato la lettera al signor von maibon di popperade lettera che quando la rilesse con la testa pesante e il cervello in fiamme gli parve la migliore e la più diplomatica della sua vita questo fu nella notte sul 27 maggio il giorno dopo egli comunicò a sua sorella in tono leggero e scherzoso che considerata la cosa da ogni lato non voleva dire senz'altro di no al signor von maibon e abbandonarlo al primo tagliaborse che gli fosse capitato davanti il 30 del mese partì per rostock e di là proseguì con una carrozza da nolo nei giorni seguenti fu di ottimo umore il suo passo era franco ed elastico il suo volto pieno d'affabilità burlò clotilde rise cordialmente di christian scherzò con toni la domenica giocò per più di un'ora con hanno sull'altana al secondo piano aiutandolo a sollevare minuscoli sacchi di frumento fino ad un piccolo granaio color mattone e imitando le grida strascicate dei facchini e il 3 giugno nella seduta del consiglio comunale tenne sul più stucchevole argomento del mondo una qualsiasi questione di tasse un discorso così eccellente e spiritoso che ottenne vittoria su tutta la linea e il console Hagenstrom che aveva fatto opposizione fu subissato da un coro di risate prodotto è Absolutely ma si chi i i pa i i i Grazie a tutti